Allora come dice il titolo oggi io e Alessio vi parliamo di artificial intelligence utilizzata da java da quarkus ma cominciamo un attimo a tracciare qualche confine di quello di cui parleremo perché artificial intelligence se ne parla tanto se ne parla a volte a sproposito quello di cui parleremo a livello di artificial intelligence soltanto un accenno è deep learning e nella fattispecie parleremo di che cosa? Probabilmente dell'applicazione più nota all'interno del deep learning che è quella della categorizzazione delle immagini. Per essere precisi quello che faremo è useremo una rete neurale già istruita abbiamo preso una di quelle che si possono trovare facilmente online che hanno vinto il concorso ImageNet, ImageNet è un concorso che si fa tutti gli anni nel mondo deep learning in cui a vincere è la rete neurale istruita che riesce a identificare meglio immagini che non gli sono mai state date ovviamente possibilmente nel minor tempo possibile ma soprattutto con la miglior percentuale di precisione e però che cosa utilizzeremo di fatto nella parte deep learning? Nella parte deep learning quello che useremo è TensorFlow, TensorFlow è di fatto lo standard, lo standard di fatto all'interno del mondo delle reti neurali e permette di esprimere come un grafo complesso una rete neurale, istruirla e poi utilizzarla da un client in modo da fornire input mai visti per ottenere output attesi ma come lo vedremo noi TensorFlow? Come una black box e questa cosa è intenzionale perché non è lo scopo della nostra presentazione andare a parlare di tensor, andare a parlare di array multidimensionali di come si istruisce una rete neurale, come è fatto il modello, non è questo il punto quello di cui vogliamo parlarvi oggi è del client, cioè di come poi un modello che è stato istruito da un data scientist ben più esperto magari di noi del problema o anche della tecnologia stessa possa essere utilizzato poi all'interno di un servizio, di un micro servizio quindi all'interno di un'applicazione cloud e allora quello che ci siamo chiesti nel guardare questo utilizzo è ma quindi il client di queste cose può essere soltanto uno degli linguaggi diciamo tradizionali utilizzati per il mondo deep learning l'onipresente javascript che tra poco lo useranno anche per il caffè python che è tanto caro il data scientist ed è forse il linguaggio che più si è sviluppato attorno al mondo del deep learning e che sicuramente è il migliore per tutta la parte di istruzione, test e quant'altro ma non necessariamente per la parte client o go che in quanto cloud eccetera non andiamo a parlare di cloud e quant'altro anche sul mondo deep learning è usato parecchio noi invece lo vorremmo alimentare con java il buon vecchio java che poi così vecchio forse non è ma perché? perché? perché alla fine le due applicazioni che si possono vedere di una scusate ah no sì, giusto le due applicazioni che si possono vedere di una rete neurale di questo tipo di riconoscimento immagine, categorizzazione immagini possono andare a finire o in un sistema embedded il cellulare tipicamente e qua java ha il suo spazio di diritto la sua cittadinanza di diritto perché android e java sono un connubio molto forte tant'è che tensorflow stesso ha una sua versione ridotta che si chiama tensorflow lite che è pensato per girare proprio con java su android oppure l'altra applicazione è farne appunto un microservizio da mettere in cloud questi sono i due estremi dove forse ha più senso ad andare ad utilizzare questa cosa e quando si parla di metterlo in cloud si storcono molti più nasi quando si dice java perché si tende a preferire uno dei tre linguaggi che ho detto prima ma se le performance sono vicine a quelle degli altri linguaggi ci potrebbero essere utilizzando java e in questo caso nel nostro caso quarkus per avvicinarci a quelle performance ci potrebbero essere degli altri vantaggi che forse sono anche più importanti delle performance du core perché se faccio un servizio in cloud non mi limito soltanto a fare qualche cosa che riconosca l'immagine e punto e basta ma probabilmente è perché lo voglio integrare in un mondo enterprise più esteso un mondo enterprise che ha bisogno di tante altre cose altrimenti non ne vale la pena altrimenti mi faccio il servizio integrato della mia telecamera embedded e poi chiamerò dell'altro e quant'altro ma se vado a fare un servizio forse ho bisogno di qualcosa di più e allora da qui la nostra idea di prendere una rete tensorflow e di alimentarla con java e con quarkus perché come dice lo slogan del progetto quarkus è supersonic subatomic java ma concentriamoci su ogni singolo aspetto di questo slogan perché partiamo dal fatto che sia java perché per noi era ed è importante è il punto di partenza da cui siamo partiti perché è enterprise java cloud native e quindi con un sacco di cose che possono essere interessanti prima di tutto gli standard perché se vado nel mondo enterprise una volta che ho riconosciuto che l'immagine è tal dei tali avrò bisogno di integrarmi ad altri servizi di livello enterprise avrò bisogno delle transazioni avrò bisogno probabilmente di messaging avrò bisogno di CDI se mi devo integrare ad altro piuttosto che uno RM ma quarkus è sicuramente standard ma non solo standard mi permette un facile accesso attraverso l'estensione di quarkus a tutto quello che è tutto sommato è il meglio a livello di libreria enterprise che il mondo open source e non solo open source è in grado di fornire in questo momento e quindi noi pensiamo che poter accedere a kafka poter fare caching su infinispam piuttosto che fare un RM con hibernate siano dei vantaggi impagabili e ai quali non si può rinunciare neanche pensando di integrare nella propria applicazione enterprise l'artificial intelligence o il deep learning chiamiamolo come vogliamo abbiamo detto che quarkus è anche subatomic ma che cosa si intende e perché ci interessa tanto parlando di un'applicazione cloud che faccia riconoscimento immagini ma sostanzialmente per questo motivo perché se pensiamo ad una container platform e paragoniamo quanti servizi possiamo deployare sullo stesso container di un java puro rispetto ad un paragone con Node.js o Go a volte il paragone è impietoso e lo è soprattutto perché java ha quel quadratino nero che si chiama heap memory che a volte può essere molto pesante a livello di occupazione di memoria e come sapete meglio di me sul cloud questo si traduce in costi ma con quarkus le cose cambiano perché la riduzione del memory footprint è stato uno dei goal primari dello sviluppo di questo progetto e quindi quello che vediamo qua e che cambia molto è che all'interno della stessa container platform posso deployare molti più servizi quarkus di quanti non potrei fare con un java hotspot ma facciamo un piccolo passo indietro per capire come si è arrivati qui e come funziona sostanzialmente la cosa come funziona un application server java i tradizionale c'è il sistema operativo c'è l'application server e soprattutto i servizi fino ai vostri deployment e per chi è abbastanza vecchio e si ricorda all'inizio di java i si compilavano gli stub si faceva una meta compilazione degli stub dei servizi esattamente come si faceva in corba tanto per intenderci jboss è stato il primo e poi tutti gli altri a seguire hanno spostato questo lavoro invece che farlo fare in pre compilazione l'hanno spostato allo startup time e questo ha semplificato moltissimo la vita agli sviluppatori perché non si dovevano più occupare di fare la pre compilazione in pratica jboss e poi gli altri application server allo startup time utilizzando reflection utilizzando dynamic class loading e tutto il resto fanno under the hood tutto quello che si faceva in compilazione degli stub ma oggi la situazione è molto diversa non parliamo più di un monolita bare metal ma parliamo di microservice o addirittura se pensiamo al serverless pensiamo a centinaia di servizi che stanno all'interno dello stesso container e allora quello che dicevo prima la compilazione allo startup time e tutte le facilities che hanno semplificato la vita a noi sviluppatori hanno un costo e questo costo è sicuramente un overhead nello startup time ma soprattutto il costo se lo porto sul cloud è l'overhead nel memory footprint che si traduce effettivamente in un costo economico ma abbiamo detto che anche le performance sono importanti perché chiaramente se ho detto all'inizio che la competizione ImageNet è vinta da quella rete neurale che riconosce nel modo migliore le immagini ma anche con le performance migliori poi non ha senso utilizzare quella cosa che ha le performance migliori su un client che è lento a sua volta ma di nuovo siamo sicuri che Java sia più lento? non con Quarkus perché Quarkus che cosa fa sostanzialmente per noi in fase di compilazione o in augmentation phase prende le nostre classi e quando dico le nostre classi ovviamente non sto pensando quelle che avete scritto voi che avete scritto sicuramente in modo ottimizzato non ci sono rami di codice morto ma sto pensando a tutte quelle librerie che avete importato magari utilizzate Hibernate e di Hibernate giustamente usate soltanto l'accesso Postgres e tutto il ramo dell'accesso specifico ad Oracle non lo utilizzate e quindi c'è un sacco di codice che non viene mai utilizzato in un hotspot tradizionale tutta questa roba viene portata all'interno del vostro FATJAR o comunque nel vostro deployment e deve essere e fa parte comunque sia della memoria che eventualmente durante la fase di JIT appesantisce quello che fa Quarkus è andare a fare un'analisi statica e eliminare tutti i rami di codice morto con un livello di dettaglio molto alto si arriva fino alla singola variabile non acceduta o al singolo metodo non chiamato il risultato è di avere un bytecode estremamente efficiente sia che poi questo venga invocato in JVM mode oppure si faccia il passaggio successivo con una head of time compilation per arrivare a codice nativo e ho detto una head of time compilation non la head of time compilation perché l'associazione con GraalVM è immediata ma Quarkus è pensato e scritto per potersi attaccare anche ad altri compilatori nativi sicuramente GraalVM deve la sua fama in questo periodo pur essendo un progetto non giovanissimo GraalVM è in giro da 5 o 6 anni ma se ne parla molto oggi soprattutto per il Graal compiler Substrate VM perché ha fatto ottimi passi avanti e si può fare compilazione nativa ma di sicuro c'è un dark side nella compilazione nativa del GraalVM ma in generale una head of time compilation che è complicato sostanzialmente ha parecchie limitazioni e di nuovo queste limitazioni non impattano tanto sul codice che andate a scrivere voi perché il codice che andate a scrivere voi è tendenzialmente scritto da zero e soprattutto magari pensato oggi e quindi con tutte queste limitazioni o queste possibilità in testa ma di nuovo andate ad utilizzare una libreria che magari è stata scritta 5 o più anni fa e che queste limitazioni non ce le aveva in testa e di fatto non è utilizzabile così com'è all'interno di GraalVM quello che si fa con Quarkus è di fornire una serie di estensioni e queste estensioni rendono più semplice e possibile utilizzare le varie librerie all'interno di una compilazione nativa quello che poi vedete nella demo che Alessio vi proporrà è che abbiamo fatto esattamente questa cosa anche per portare TensorFlow la parte client di TensorFlow all'interno di un'applicazione che poi possa compilare il nativo non è ancora un'estensione ma tendenzialmente nel futuro potrebbe diventarla proprio perché poi vi racconta bene lui abbiamo affrontato tutta una serie di complicazioni che sono tipiche di quando si porta una libreria scritta in questo caso 6 anni fa quella di TensorFlow all'interno del sistema più moderno Quarkus più MiralVM e da qui tutto sommato viene la spiegazione del nome Quarkus è Quark AS Quark come la particella quindi qualcosa di piccolo e AS come noi noi sviluppatori che siamo la cosa più complicata che c'è nel software e quindi spesso utilizziamo di nuovo penso a cose scritte qualche anno fa tutte le facilities più nuove che abbiamo a disposizione non sempre tenendo in perfetta considerazione le performance e il memory footprint o neanche come ci raccontava stamattina Chris l'impatto sul pianeta ma così tre parole per poi lasciare lo spazio alla demo ma come funziona la fine Quarkus un po' di idee ve l'ho già data fuori dal tempo massimo di questa presentazione spiegarvi per bene come funziona ma davvero in tre parole quello che fa è fare tutto o quasi quello che veniva fatto a runtime che vi ho raccontato prima che è stato spostato dalla compilazione degli stub è stato spostato a runtime farlo prima farlo in fase di build time e quindi tutto questo ha tutta una serie di vantaggi tanti benefici ovviamente tutti questi benefici peraltro li potete avere sia che restiate in jvm mode perché il bytecode che uscirà sarà altamente ottimizzato sia che poi si faccia il passaggio successivo e si vada in native come già vi ho detto questi sostanzialmente sono i passaggi che fa una compilazione tipica fatta in Quarkus ve li ho raccontati nella cosa di prima però questi sono sostanzialmente i passaggi come vedete alla fine si sdoppia perché si può restare in hotspot e avere un'immagine che funziona meglio comunque soprattutto da un punto di vista della memoria e nella demo lo vediamo rispetto ad una compilazione java normale oppure si può andare in native mode e questi qua sono i numeri perché i numeri a volte sono importanti questo è il tempo di partenza di un paio di applicazioni resta una un pochino più complicata e va bene qui i numeri sono importanti ma sono ancora più importanti quelli del memory footprint io ci tengo a sottolineare anche la differenza tra un traditional cloud native e un Quarkus più open jdk perché ovviamente in nativo è disarmante ma anche in open jdk otteniamo ottimi risultati specie con applicazioni più grandi perché si vede ancora di più la differenza e ultimo ma non ultimo la cosiddetta developer joy qui l'abbiamo visto per chi c'era la presentazione di Mario parecchio se ne vede un pochino in demo vi invito a sperimentarlo perché comunque davvero potete smettere di farvi dire da quelli che sviluppano il Node.js che ma non riesce a provare al volo le cose ci si riesce e ci si riesce bene adesso vi lascio alla demo di Alessio che invece vi fa vedere nel codice quello che abbiamo fatto i passaggi che abbiamo fatto per arrivare è a chiamare la rete neurale da Java ok eccoci allora demo come ce ne aveva Stefano faremo una demo in cui l'obiettivo è fare riconoscimento di immagini si tratta sostanzialmente di un'applicazione web avremo un semplice HTML che ci permetterà di selezionare un'immagine inviarla ad una risorsa REST che gira sul nostro server la quale processerà l'immagine e ne farà il riconoscimento utilizzando TensorFlow e ci restituirà un testo in formato JSON con l'indicazione delle categorie trovate per questa immagine e la percentuale di attendibilità del riconoscimento per ognuna di queste categorie vediamo da cosa siamo partiti l'idea è stata di fare un microservizio sostanzialmente la classe cuore di questo servizio la vedete qua in questa label image abbiamo preso per partire uno degli esempi di TensorFlow per l'inferenza l'identificazione delle immagini l'abbiamo leggermente modificato per utilizzare una rete specifica che è quella che vi accendava prima Stefano e per ottimizzare un attimino le performance sostanzialmente per caricare una volta sola il file con le etichette delle varie categorie per caricare una sola volta lo stream di byte della rete stessa per leggere l'immagine che avevamo noi in input e come come baseline siamo partiti con l'idea di utilizzare Tomcat embedded nella nostra applicazione andiamo a vedere il build giusto per farci un'idea di cosa stiamo parlando semplicemente qui vediamo che tiriamo dentro con l'apposito plugin di Tomcat una versione neanche recentissima di Tomcat tra l'altro questi sono i vari plugin abbiamo le dipendenze per la parte di rest utilizziamo rest easy che è l'implementazione di Jax RS che è inclusa in Jboss nel prodotto Jboss EAP di Red Hat e quindi anche in Wildfly prodotto community in particolar modo utilizziamo la componente multipart provider che serve per fare il processing dell'output di una form e il provider Jackson 2 perché vogliamo restituire un output in JSON ovviamente abbiamo una libreria di TensorFlow e alcune altre librerie di supporto per la nostra applicazione come funziona funziona semplicemente che questo metodo LabelImage prende in input lo stream con i byte dell'immagine li passa a questa MakeImageTensor che con Java con le librerie avutiva leggere l'immagine eventualmente la scala la dimensione se è troppo grande perché comunque il modello ha certe immagini di una dimensione prefissata fa la lettura in float un array di float dei valori dei byte dell'immagine dopodiché li passa alla libreria che a sua volta ci restituisce di nuovo dei numeri dei float che noi andiamo a mappare su una struttura dati custom nostra che è poi quella che viene mappata sul json una struttura dati è questa probability che vediamo qua che adesso non si apre la vediamo qui semplicemente un poggio con un'etichetta e una percentuale allora andiamo a vedere come si comporta questa applicazione ah no beh la risorsa rest è una classica risorsa JAXRS annotata con le annotazioni classiche di JAXRS in cui noi prendiamo in input il form multipart passiamo lo stream di byte qui alla classe di prima e facciamo il conto del tempo che è servito per fare il processing dell'immagine e restituiamo l'oggetto la collezione di oggetti poggio che viene trasformata in json allora andiamo a vedere beh intanto magari la facciamo partire quindi io l'ho già compilata prima è un fat jar per cui lo avviamo così già almeno jar e apriamo allora andiamo a selezionare la nostra immagine prendiamo ad esempio questa immagine di una tigre schiacciamo process e dopo un secondo lato server un secondo set misurato lato client otteniamo i nostri cinque risultati che abbiamo chiesto di cui il più probabile è il primo ovviamente e dice che è stata identificata una tigre bene una seconda eventuale invocazione sarebbe sensibilmente più veloce 27 millisecondi perché ormai è stato caricato il il grafo e la sessione è stata inizializzata ovviamente potremmo anche fare con altre immagini per dire con un fungo e vedete anche qui boletus bene è interessante andare a vedere l'occupazione di memoria di una cosa di questo tipo allora vediamo questa dovrebbe essere questa qui vediamo si andiamo a manager web app siamo attorno ai 210 mega 210 215 questo giro è un po' più prossimo con la memoria ovviamente è una stima quella non è precisissima va bene abbiamo deciso allora di provare ad usare corpus e vedere se abbiamo delle migliorie come si fa a portare questa applicazione in corpus l'abbiamo presa tale quale abbiamo semplicemente cambiato il build il build lo vediamo qui che cosa abbiamo di diverso abbiamo l'import delle dipendenze di corpus in particolar modo ovviamente del core di restisi dell'estensione di restisi dell'estensione di restisi per usare jackson e poi ci serve comunque la componente di restisi per il multipart perché è opzionale il resto è sostanzialmente uguale andiamo ad utilizzarla in modalità jvm anche qui l'ho già compilata usiamola così poi tanto dopo vedrete che la ricompileremo per cui avremo modo di vedere come si comporta la compilazione avviata 7 decimi di secondo per partire che comunque è interessante qui abbiamo la nostra applicazione ho cambiato il nome dell'etichetta sulla pagina web per riconoscerla meglio apriamo di nuovo la nostra bella tigre e la tigre viene riconosciuta in realtà un pochino più in fretta rispetto a prima già 9 decimi e un secondo e uno lato client riconoscimento scusate quella prima di nuovo seconda invocazione sensibilmente più veloce anche qui volendo possiamo provare un'altra immagine proviamo ad esempio questo un Airbus EasyJet sempre a tempi interessanti questa è l'immagine un po' più grande ovviamente per cui richiede un po' più di tempo per il processing aereo di linea 98% bene vediamo l'occupazione di memoria qui siamo in questo 191 mega quindi già una piccola miglioria intorno al 10% più o meno l'abbiamo ottenuta una cosa interessante è che in realtà noi potremmo anche cambiare questi risultati potremmo dire vogliamo primi 50 risultati ovviamente sono poco significativi però questo ci permette di fare un giochino di provare a vedere alcune delle caratteristiche sulla developer joy che dicevamo prima allora ipotizziamo che fermiamo questa applicazione la facciamo ripartire però in un modo differente facciamo maven compile corpus dev dopodichè andiamo ad aprire la nostra bella applicazione di prima il codice allora greeting resource della versione gvm che è questa la risorsa resta ipotizziamo di voler mettere un filtro sul numero di risultati che vengono restituiti scusate per cui ad esempio ipotizziamo if result maggiore di 15 di 10 result uguale a 10 results ok andiamo a fare la prova magari ricarichiamo l'immagine non lo serve ok già abbiamo avuto 10 risultati neanche bisogno di fare il refresh sul browser questo ovviamente è carino mentre sviluppavo questa applicazione il sistema ribati è stato un attimo più agile in questo modo ovviamente parlando di feature di corpus a questo punto andiamo a vedere cosa si può fare con la compilazione nativa vediamo se abbiamo qualche ulteriore miglioria in termini di performance e di memoria allora anche qui l'ho già compilata la facciamo partire e di nuovo presa l'applicazione tale quale cambiato il build cambiato il build aggiungendo questa parte che vediamo qui corpus maven plugin che ha un goal che si chiama build che fa il build no questo corpus maven plugin goal native image gli diciamo che dobbiamo importare a parte i sorgenti le risorse solite anche queste due categorie di file perché bisogna dire esplicitamente punto pb è la rete txt invece per importare le label e niente fatto così andiamo a provarla allora andiamo su image native prendiamo di nuovo la nostra bella tigre process non funziona perché non funziona per alcuni dei problemi che dicevamo prima cioè non è così scontato portare in combinazione nativa un'applicazione come quella di tensorflow che fa utilizzo di librerie native in questo caso vediamo che abbiamo un unsatisfied del link error allora il motivo del del problema è legato a come tensorflow carica le sue librerie native c adesso noi io l'ho già risolto il problema per cui semplicemente vado a caricare la versione giusta senza il baco magari fissando tutto va bene ricompilo e poi mentre ricompila visto che ovviamente richiede un po' di tempo andiamo a capire che cosa abbiamo fatto per sistemare questa applicazione allora level image nativo dicevo il motivo per cui non va è che tensorflow deve caricare le librerie native e in particolar modo il caricamento di queste librerie native viene effettuato in fase di inizializzazione delle principali classi di tensorflow siccome come accennava prima Stefano corpus in augmentation phase quindi durante il build va ad inizializzare tutte le classi che servono ovviamente va anche a far partire la compilazione l'esecuzione di questa inizializzazione delle librerie con GNI quindi viene salvato il riferimento alle librerie il riferimento in memoria alle librerie che però non risulta più utilizzabile una volta che l'immagine viene usata a runtime per risolvere questo problema potremmo fare sostanzialmente in due modi o dire a corpus no guarda non fare l'inizializzazione a build time delle classi o comunque anche solo delle classi di tensorflow che funzionerebbe ma noi in realtà vogliamo che lui faccia l'iniziazione delle classi perché ci fa comodo che il class loading sia già effettuato una volta che andiamo a runtime se no alternativamente possiamo fare una cosa come quella che abbiamo fatto noi cioè dire a a tensorflow di rinizializzare le classi la prima volta che esegua runtime quindi di ricreare il link lo facciamo usando la reflection in questo caso andando a chiamare il metodo init che c'è dentro a questo classi tensorflow che come potete vedere fa il collegamento JNI alla libreria e questo viene fatto sulla prima invocazione intanto è già finita la combinazione velocissima la farà fatta bene ma non è l'unica accortezza che ci serve per riuscire a far andare questa applicazione in nativo l'altra problematica principale che abbiamo è che siccome al momento compilazione nativa significa usare GraalVM in particolar modo SubstrateVM dobbiamo sottostare le limitazioni di SubstrateVM una di queste limitazioni che non sempre viene citata anche nelle varie presentazioni su Quarkus è che le librerie AVT non sono ancora supportate in Substrate quindi non possiamo caricare l'immagine e non possiamo fare image processing come abbiamo trovato un workaround al problema abbiamo usato un'altra libreria per caricare le immagini in particolar modo ce n'è diverse ce n'è una di Apache che si chiama Apache Common Imaging che abbiamo utilizzato se la trovo ho perso il punto ah ecco l'ho perso perché sto guardando la classe sbagliata ecco qua Imaging ok che fa il caricamento dell'immagine utilizzando una libreria di Apache che attualmente è in alfa però per quello che ci serve funziona completamente lato Java senza usare librerie native purtroppo non supporta operazioni come il resizing dell'immagine per cui per il momento per questo devo semplicemente usare immagini già delle dimensioni che ci servono qui dentro c'è ancora il codice questa parte dell'IF che serve per fare il resize utilizzando AVT funzionerebbe solo se lo eseguissimo in modalità JVM uno potrebbe anche a mano farsi lo scaling non è così difficile ma non abbiamo voglia di farlo per questa demo ovviamente poi dopo il mapping sul array di float è differente perché in questo caso la libreria legge un array di interi per cui bisogna comporre le varie componenti di colore una cosa interessante da notare che il fatto di aver messo membri statici della classe il caricamento delle etichette il caricamento dei byte del grafo eccetera è un vantaggio quando si va in nativo perché questa cosa appunto viene fatta a build time in augmentation phase e quindi questo sarà causa di tempo risparmiato sulla prima esecuzione va bene adesso considerato che la compilazione è finita andiamo ad eseguire la nostra applicazione qui devo specificare l'ed library path il java library path perché è il riferimento per la libreria nativa che nel caso dell'immagine serve dargli riferimento esplicito 19 millesimi di secondo il boot contro i 7 decimi che erano già interessanti della modalità jvm riproviamo o adesso funziona funziona è notare 265 millesimi di tempo di elaborazione rato server sulla seconda invocazione abbiamo un prestigioso 26 e già ci ha messo tanto perché sulla terza abbiamo 9 millesimi chiaramente potremmo sempre usare altre immagini prendiamo questo fungo ridimensionato per il motivo che vi dicevo prima 12 millisecondi l'identificazione è leggermente diversa ma probabilmente dipende dal fatto che ho ridimensionato io l'immagine e questo non dà gli stessi risultati precisi nel caso jvm era un po' più alta la percentuale per boletus e più bassa per la tartaruga va bene andiamo a vedere l'occupazione della memoria a questo punto perché ci interessa occupazione 52 mega quindi siamo scesi del 75% rispetto al valore di prima perché è importante è importante perché siamo riusciti a fare un microservizio con un memory footprint decisamente migliore rispetto al caso jvm rispetto al classico caso di fiat jar con un web server embedded e in questo microservizio abbiamo messo sia delle componenti di artificial intelligence riconoscimento di immagini machine learning in generale che delle componenti classiche di java i la risorsa rest il ritorno in json ovviamente avremmo potuto mettere ben altro nel senso che avremmo potuto interfacciarci con un database consumare una serie di immagini che ci vengono fornite su una coda interfacciarci con interfacciarci con sistemi legacy magari usando servizi web service SOAP e per fare queste cose java è perfettamente attrezzato per cui ci si ricondusce al discorso che facevamo prima abbiamo sdoganato l'utilizzo di questo tipo di applicazioni in un ambiente enterprise java in termini di sviluppi futuri ovviamente qui abbiamo fatto un microservizio ma si potrebbe anche pensare di andare verso serverless andare verso serverless nello specifico in caso di applicazioni tipo queste richiede di occuparsi seriamente del tempo di esecuzione sulla prima invocazione ovviamente ovviamente siamo facilitati dall'aver guadagnato sui tempi di boot in esecuzione nativa ma c'è ancora del lavoro da fare e nello specifico il lavoro da fare in questo caso sarebbe ottenere una sessione di tensorflow che sia già pronta per l'utilizzo sulla prima chiamata perché noi in realtà la dobbiamo creare sulla prima chiamata la sessione cioè dobbiamo permettere a tensorflow di caricare la struttura dati di prepararsi la sua struttura dati su cui fa davvero l'inferenza questo è un momento non è fattibile out of the box perché per come è fatta la libreria lato nativo c di tensorflow che andrebbe in qualche modo rivista fattore factoring suddivisa ma diciamo che andava un attimo oltre lo scopo della nostra demo in questo caso alternativamente ci sono altre librerie che si potrebbero provare investigare per dire c'è deep learning 4j che ha più processing lato java e meno lato nativo c però anche lì bisogna bisogna lavorarci chiaramente uno step successivo in ottica corpus sarebbe quello di trasformare questo lavoro che abbiamo fatto noi in un'estensione disponibile per corpus così che l'utente utilizzando per dire annotation da studiare bene possa abilitare il riconoscimento semplicemente fornendo per dire il grafo e quanti risultati si vogliono e l'immagine ovviamente senza dover stare a fare tutto il lavoro che abbiamo fatto noi sull'ultima slide vediamo se riusciamo a tornarci no perché ho chiuso l'applicazione vabbè comunque tu ce l'hai? sì tu? ah ce l'hai qua ah no ecco sì con i link poi vabbè le slide le renderemo disponibili comunque link per il sito di corpus a approfondire e i sorgenti tensorflow il primo è il sito generale di tensorflow il secondo è la pagina con la lista dei dei model da cui abbiamo attinto per fare il riconoscimento immagini in questo caso il nostro quello che abbiamo usato noi è il primo della lista e le demo questi sono i nostri due account github in particolar modo io la demo l'ho eseguita da un branch del primo magari più tardi lo mercio sul master così è più facile da trovare questo è quanto se ci sono domande siamo qua scusate il dialetto canadese immaginerei se dovessi scrivere un optimizzatore che il più informazione che ho sul code paths il meglio l'optimizzazione che posso fare e che al build time ho meno di informazione che ho al run time quindi aspetterei che ce ne sono scenari dove usando un sistema dove c'è un un'optimizzazione al run time sarebbe meglio i risposti o meglio i risultati se ho capito bene il compromesso qui è che il start up time è meglio perché facciamo già il build time optimization in compilazione è un risultato che avete visto che ce ne sono anche casi dove magari il start up time è meglio però quando c'è un grande lavoro è più veloce quello dove c'è l'optimizzazione al run time ma quindi si parla di fare training anche successivo quello che intende credo di stia chiedendo la differenza di performance nel gesto time e nel tempo sì anche io ho capito così ho capito un'altra cosa allora in sé just in time compilation può essere più performante da un punto di vista strettamente strettamente di processore su questo possiamo essere d'accordo il compromesso di andare ahead of time è perché comunque si mette è come tirare su la virtual machine già calda nel senso che il just in time compiler è vero migliora nel tempo ma i casi in cui il just in time compiler fa un lavoro sensibilmente migliore di una head of time compiler sono molto pochi comunque richiede tanta esecuzione richiede di identificare i path di esecuzione più comuni di farli tante volte così che la JVM possa ottimizzare quegli specifici path esatto diciamo che la head of time compiler è quello che fa quarkus nella fase di static analysis è cercare di identificare il pattern di esecuzione più probabile ovviamente non è detto che poi sia quello reale in fase di run time e potrebbe da un punto di vista strettamente di processore essere migliore quello del just in time compiler però nel caso medio no e comunque diciamo che per una demo così non arriviamo ad apprezzare questa differenza cioè bisognerebbe fare una cosa molto più complessa con più lavorazione con molte più invocazioni e a quel punto lì si può cercare di apprezzare le differenze se posso aggiungere se posso aggiungere l'esperienza che abbiamo fatto noi o meglio che ha fatto un nostro cliente che stava provando la soluzione che abbiamo mostrato durante il nostro talk di quarkus e cogito loro hanno fatto effettivamente un confronto tra le due soluzioni quella head of time e quella just in time quello che si vede è che se si mettono le due curve di performance a confronto quella head of time parte molto più bassa perché ha fatto già delle sue ottimizzazioni però durante tutto il ciclo di vita dell'applicazione resta sempre costante e quella just in time invece parte più alta cioè più lenta nel grafico e poi mano a mano che l'ottimizzatore fa delle ottimizzazioni il tempo la performance migliora sempre di più e ad un certo punto c'è un punto dove le due linee si interseguono abbastanza è là con la vita dell'applicazione a dire la verità ma insomma ad un certo punto c'è un punto dove le due linee si interseguono e just in time chiaramente diventa più veloce di head of time proprio perché ha potuto fare delle ottimizzazioni di cui si è reso conto facendo l'analisi delle performance delle possibili ottimizzazioni mentre il codice effettivamente girava ho il grafico sul mio computer di queste due curve se vuoi dargli un occhio dopo ci sono altre domande? grazie ancora grazie 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 a tutti